Te devi morire di cazzo Infatti non so se neanche io Eh io lo so Quello si deve E il cavallo Eh vabbè cioè pure con la granata no eh Che cosa sta succedendo? No dai non è possibile Mi si era bloccato il personaggio Ma non c'era quella barca? Da dove è farsa? No vabbè No flaccendo No